Anche il Museo Archeologico Nazionale Martà di Taranto protagonista in questa giornata di Ferragosto. Grande affluenza e soprattutto tanto entusiasmo. Ferragosto alternativo quest'anno, abbandoniamo il mare e facciamo qualcos'altro di più interessante oggi. Felicissima di fare un Ferragosto alternativo diverso dagli altri, sono felicissima insieme alla mia famiglia. Ferragosto al museo e non sulle spiagge. Stiamo anche andando in spiaggia, abbiamo fatto una prima parte qui al museo e poi se riusciamo a trovare un posto per la spiaggia, anche un po' di mare, perché no? Per la spiaggia di San Pietro, l'isola di San Pietro, certo. Un Ferragosto al museo? Ci è sembrata una buona occasione per venire finalmente a visitare questo museo così importante, visto che c'è un appassionata di Grecia e del modo antico, quindi ci è sembrata proprio l'occasione adatta. Oggi al museo, contenti? Sì, siamo stati molto contenti, abbiamo visto il museo archeologico, è stato molto bello. Era stata una visita anche molto interessante. Cosa ti è piaciuto di più? Mi sono piaciuti di più il corredo delle bambine romane. Grazie. Grazie.